Ciao ragazzi dalla vostra Cubra Intermania, siamo qui per parlare di Inter-Juve, la grandissima partita attesa, una grandissima partita assolutamente attesa e è finita ragazzi 1-1. Ha fatto gol assolutamente, un gol pazzesco, assolutamente pazzesco, Nainggolan, ha fatto gol dall'altra parte nella Juventus, ha fatto gol Cristiano Ronaldo, due assurdi gol. Tutto sommato ragazzi abbiamo giocato molto noi nel primo tempo ma anche molto loro nel secondo tempo, tutto sommato ragazzi una partita equa, una partita assolutamente giusta in questo pareggio. Era normale che comunque noi interisti contavamo appunto per i tre punti che ci sarebbero serviti perché comunque la Juventus vincendo gli dà solamente un po' di autostima però non serviva a molto, non quanto assolutamente serviva all'Inter prendere questi tre punti. Quindi ragazzi questo è tutto invariato in sostanza, la Roma ha appena oggi pomeriggio ha giocato e ha vinto, anche molto facile, quindi ragazzi speriamo bene, speriamo bene di andare avanti con questa classifica però ragazzi, però ragazzi non ne potevo più, però ragazzi io volevo la vittoria, assolutamente la vittoria, l'aspettavo, la volevo assolutamente come tutti. D'altronde tutti gli interisti speravano appunto in questo successo sia per un discorso proprio nostro, no? Di orgoglio di vincere questa partita, questa bellissima partita contro appunto la Juventus però alla fine dei conti tutto sommato un pareggio equo però ma che cavolo, ma che palle. Ci voleva assolutamente questa vittoria, sono assolutamente amareggiata ma più che altro perché sono rimasta delusa visto i primi tempi, il primo tempo andava alla grandissima. Non voglio portare assolutamente pessimismo nel mio canale, ce ne sarebbero da dire però non voglio amareggiare nessuno, non voglio portare una mentalità assolutamente negativa perché tutto sommato non ci possiamo lamentare, sempre un punto ce lo portiamo a casa, spero che questo punticino appunto ci serva per andare avanti perché rientrare di nuovo e giocarmi una competizione come la Champions League. Per ora stiamo prendendo questo obiettivo perché tutto sommato questo è comunque l'obiettivo che ci tiene ancora in piedi perché abbiamo fatto male in Coppa Italia, abbiamo fatto male in Europa League, comunque il girone non abbiamo superato quello di Champions League, quindi voglio che quest'anno almeno rientriamo di nuovo in Champions League. Quindi adesso ancora questo obiettivo ci sta, cioè noi ci siamo, stiamo ancora lì, con questo punto è più probabile che siamo ancora lì, quindi speriamo, speriamo fino a fine campionato ragazzi, un bacione dalla vostra Cubra Intermania, un salutone, ah una cosa, vi volevo dire una cosa, come ultima cosa ragazzi vi voglio dire che io ho cambiato partner, che non sono più con l'azienda di prima, ma appunto come potete vedere io ho preso la mia maglietta dell'Inter, ve ne parlerò nel prossimo video in modo migliore, comunque io nella descrizione appunto vi metterò il link del sito da cliccare, è sempre Cubretta 444, quindi non vi sbagliate, stesso codice sconto e stesso appunto sconto con queste bellissime magliette, che vi farò anche un altro video appunto più illustrato e più ricco di informazioni, mi raccomando, cliccate su questo sito e potete vedere tutte le magliette ragazzi, con questo la vostra Cubra Intermania vi saluta e vi dice un bacione ragazzi, buona domenica sportiva, ci sarà una giornata appunto di Serie A e quant'altro, quindi un bacione dalla vostra Cubra Intermania.